Buonasera e benvenuti a Green Reports. Il Grattacielo di Rimini pochi giorni fa, come sapete il Grattacielo è un edificio costruito nel secondo dopoguerra e spesso veniva indicato come uno degli edifici più inquinanti della città, ecco pochi giorni fa il Grattacielo ha fatto parlare di sé in un modo molto positivo, ovvero grazie alla riqualificazione energetica dell'impianto di riscaldamento, ora il Grattacielo diventerà non solo un luogo più accogliente e confortevole per i propri abitanti, ma anche un edificio a bassissimo impatto ambientale. Un progetto che naturalmente non poteva passare inosservato perché nel caso del Grattacielo parliamo di un vero e proprio micro quartiere, pensate sono 187 le unità abitative, in questo caso disposti verticalmente su 29 piani e quindi il costo complessivo di questo progetto è stato stimato a 1.400.000 euro circa, ma questo progetto è una vera e propria svolta anche per la città di Rimini per vari motivi che cercheremo di chiarire nel corso della trasmissione, lo faremo con un ospite, una persona che è direttamente coinvolta in questo progetto della riqualificazione energetica del Grattacielo, ingegner Fabrizio Puliti, buonasera e benvenuto a Green Reports. Buonasera. Il suo studio, studio modulo, studio tecnico modulo, si è occupato della progettazione delle opere e anche della direzione dei lavori. Esatto. Ecco ingegnere, il tema della riqualificazione energetica, quanto è importante oggi per la qualità urbanistica di un territorio? Dunque direi molto importante perché se prendiamo come caso quello di cui parliamo, il Grattacielo di Rimini, l'energia per il riscaldamento era prima fornita da delle caldaie che utilizzavano un combustibile altamente inquinante, il BTZ, basso tenore di zolfo, un olio combustibile che addirittura adesso è fuori norma e con il quale si aveva un notevole inquinamento dell'aria per emissioni di CO2, per emissioni di anidrite solforosa soprattutto che è un inquinante che stratifica verso il basso, quindi molto dannoso e molto pericoloso. Quindi con l'intervento che è stato fatto e la sostituzione delle caldaie preesistenti con delle nuove caldaie a gas metano, si ha una riduzione notevolissima, anzi quasi drastica di quelli che erano questi inquinanti che ho appena citato, l'anidrite solforosa viene praticamente quasi a scomparire, la riduzione di CO2 può essere valutabile in circa 200 mila o anche di più chilogrammi anno, quindi ne consegue un impatto ambientale notevole verso l'ambiente circostante con una fortissima riduzione degli inquinanti atmosferici. Questo qui è molto importante, ecco il progetto che voi avete realizzato, su che cosa si basa? Quali sono le considerazioni che voi avete dovuto fare all'inizio di questo progetto? Sì, noi siamo stati incaricati dall'assemblea condominiale dopo una gara di progettazione tra vari studi, ci è stato affidato quindi lo studio, l'idea di questo progetto, di come realizzarlo, quello che abbiamo dovuto affrontare sono state tante problematiche, innanzitutto la tipologia di impianto e la collocazione della nuova centrale di produzione del calore, della nuova centrale termica, abbiamo dovuto pensare quindi a come naturalmente smantellando la centrale esistente posizionare i nuovi impianti di produzione e come distribuire il calore a tutto l'edificio attraverso dei nuovi impianti, attraverso delle nuove condotte di distribuzione in sostituzione di quelle precedenti che erano risalenti ancora alla costruzione dell'edificio, quindi come ha detto lei prima al 1960, nel 1958 iniziò la costruzione del Grattacielo, finì nel 1960 e quindi risalgono ad allora vecchie condotte, vecchie tubazioni ammalorate, deteriorate, sporche che necessitavano di continui interventi di manutenzione. Quindi avete avuto molteplici difficoltà. Molteplici difficoltà, la prima è stata quella di come e dove collocare le nuove linee di distribuzione, cosa sono le linee di distribuzione? Sono quelle tubazioni, quelle condotte che portano l'acqua calda prodotta da questi nuovi generatori di calore, da queste caldaie, caldaie a condensazione che sono state installate in una centrale termica al piano interrato dell'edificio, portare questa energia fino alla porta di ciascun appartamento, perché all'ingresso di ogni appartamento sul corridoio, nel controsoffitto del corridoio scala, sopra la porta di ciascun appartamento è stata messa una cassetta chiamata modulo satellite di contabilizzazione, in cui arrivano le linee che partono dalla centrale termica. Quindi la prima problematica è stata quella di studiare i percorsi attraverso i quali fare passare queste nuove, importanti linee di distribuzione in un edificio che è un colosso, un colosso come ha detto lei prima di 100 metri d'altezza, 101,5 metri d'altezza per 27 piani. Se fosse disposto in orizzontale potremmo dire che è un quartiere, 187 appartamenti. Io direi che 200 circa appartamenti, più i negozi e gli uffici come Marina Centro quasi. Esatto, più o meno, siamo lì. Molti ne parlano proprio di un vero e proprio quartiere, un vero e proprio quartiere e quindi abbiamo creato un impianto, lo possiamo equiparare a un teleriscaldamento, qualcosa del genere. Ripeto, un impianto completamente nuovo partendo dalla centrale termica e tutta la distribuzione fino a tutti gli appartamenti che ha sostituito in toto l'impianto esistente. Quindi con degli ovvi problemi di tipo di studio ingegneristico strutturale per riuscire a determinare e a realizzare le nuove linee di distribuzione, è chiaro che se si deve intervenire, quando si deve intervenire in un edificio esistente con dei lavori di ristrutturazione, dal punto di vista progettistico, progettuale, si hanno molti più problemi che non a realizzare una progettazione di un edificio nuovo. Entrano in gioco diversi fattori, le strutture esistenti, le problematiche esistenti, eccetera. Le normative di prevenzione di incendi, ovviamente, che sono molto importanti e che dovevano essere rispettate in toto. L'antisismica, sicurezza e via dicendo. E poi soprattutto nella fase progettuale, forse la soluzione tecnica più impegnativa che abbiamo dovuto studiare e poi realizzare è stata quella di realizzare un impianto che permettesse per il primo anno di funzionamento, per il primo anno di esercizio, il contemporaneo funzionamento sia delle nuove linee di distribuzione, sia delle vecchie linee montanti di distribuzione, quelle vecchie linee di cui parlavo prima. Perché? Perché 189, quasi 200 condomini devono avere il tempo di allacciare il proprio impianto interno a quella famosa cassetta di contabilizzazione che c'è sopra la porta del loro appartamento, di cui parlavo prima. È chiaro che perché 189 condomini riuscissero a fare questi lavori, si doveva concedere un periodo di tempo sufficiente. Quindi praticamente tutto l'anno che intercorre, diciamo, da adesso fino a quando poi in realtà sarà poi obbligatorio contabilizzare l'energia prodotta in un condominio, che è la fine del 2016. Quindi nella prima stagione invernale, che è quella che sta iniziando ora, era necessario mantenere in funzione contemporaneamente tutti e due i sistemi di distribuzione e quindi abbiamo dovuto trovare una soluzione che ci permettesse, una soluzione tecnica che ci consentisse questa cosa. E lì è stato uno dei punti più difficili di questa progettazione, progettazione che noi abbiamo terminato nel maggio del 2015 di quest'anno, con la redazione anche di un computo metrico, di un capitolato d'appalto specifico che è stato messo in gara, gara d'appalto che, a cui hanno partecipato diverse ditte, naturalmente dovevano essere ed erano ditte molto strutturate, molto importanti per poter eseguire un lavoro di questo genere, la gara è stata vinta dall'associazione temporanea di imprese SGR IRCI, due ditte SGR, due ditte di riferimento, certo. IRCI SPA è un'altra ditta molto importante della nostra zona, questo è importante, tengo sottolinearlo, è stato importante, comunque avete utilizzato aziende del territorio, aziende strutturate veramente in una maniera molto importante, perché solamente aziende di certe dimensioni avrebbero potuto portare a termine questi lavori nei tempi che erano previsti, cioè tra, ripeto, la gara è stata, le ditte è stata appaltata, espletata, quindi l'appalto è stato dato a fine giugno, i lavori sono iniziati il 20 luglio, bisognava terminarli, almeno il grosso dei lavori, perché dopo le finiture proseguiranno ancora la sistemazione edile, diciamo, dei corridoi, della scala, eccetera, continueranno ancora per un certo periodo di tempo, però il grosso dei lavori doveva essere terminato per l'inizio di questa stagione invernale, quindi per adesso, perché il freddo arriva, il freddo arriva, per cui era necessario fare questo e solo delle ditte capaci sarebbero riuscite a fare questa cosa. È comunque un lavoro che è stato eseguito, diciamo, in tre mesi, per la precisione 94 giorni, mi sembra di aver capito, quindi molto velocemente. Il primo colpo di martello, come si dice in questi casi, è stato dato in, mi pare, il 20 di luglio, il 20 di luglio, quindi facendo il conto parliamo di 90 giorni, poco più. Ecco, tutto questo naturalmente significa risparmiare nei costi di gestione, significa aumentare la qualità e il valore di un immobile, questo tipo di lavori, ma naturalmente non sarebbe stato possibile senza il consenso dei condomini, perché una volta individuato il progetto, insomma, andava condiviso tra gli inquilini. Sentite che cosa ci ha raccontato l'amministratore Avvocato Bracaglia. Avvocato, negli ultimi anni il ruolo dell'amministratore è cambiato tanto e non si limita più solamente a mettere, diciamo così, d'accordo i condomini, ma è concentrato anche sui lavori importanti come la riqualificazione energetica. Beh, sì, indubbiamente negli ultimi tre anni la figura dell'amministratore è stata in qualche modo oggetto di rivisitazione normativa importante. Parliamo della legge del 2012 che ha sostanzialmente configurato l'amministratore come un professionista del management condominiale, quindi dell'amministrazione. All'amministratore sono state affiancate numerose e nuove responsabilità, allo stesso tempo però è stata data anche dignità professionale, per cui oggi possiamo dire che effettivamente questo ruolo può e deve essere rivestito da persone che hanno un'adeguata formazione alle spalle e che posseggono anche un titolo che gli ability in questo senso. Se è vero infatti che non esiste un albo per l'amministratore di condominio è altrettanto vero che la riforma del 2012 ha imposto dei criteri di selezione per l'accesso alla professione, per cui oltre a dei titoli di studio minimi richiesti è anche necessario affrontare una formazione periodica annuale e associarsi alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per cui oggi il ruolo più che mai dell'amministratore è quello di un manager condominiale. E lei è l'amministratore del Grattacielo, ecco qui è stato eseguito un lavoro molto importante, un lavoro di riqualificazione energetica che ha coinvolto 187 unità familiari. Come siete riusciti? Ma effettivamente come ben ricorda lei si parla di 187 famiglie, quindi una comunità di persone estremamente eterogenea. Devo dire che il merito principale è proprio quello degli abitanti di questo quartiere verticale, come solitamente siamo soliti definirlo noi. Una grandissima collaborazione da parte dei residenti che è stata messa probabilmente in condizione di capire quali fossero le reali esigenze dell'edificio e che è stata fatta partecipe in prima persona di questo progetto di riqualificazione, per cui il primo merito indubbiamente spetta ai residenti. Il merito dell'amministrazione probabilmente è stato quello di sapere individuare all'interno dell'edificio, di capire che all'interno dell'edificio c'era questa voglia di rinnovamento e far sì che fossero proprio i residenti principali attori di questo processo di riqualificazione. Dunque noi siamo stati nominati alla fine del 2012, sostanzialmente quindi già a partire dai primi mesi del 2013 il nostro team si è messo in moto per approfondire il problema che da subito appariva come quello principale, cioè la riqualificazione dell'edificio a 360 gradi. Fra queste riqualificazioni indubbiamente un ruolo importantissimo è rivestito da quello energetico. Quindi sostanzialmente nell'arco di due anni i condomini sono stati messi nelle condizioni di valutare quelle che erano le reali esigenze dell'edificio e di valutare a chi affidare la gestione di questo importante patrimonio, sia per ciò che attiene alla progettazione, sia per ciò che attiene alla esecuzione di questo progetto. Desidero sottolineare che i termini sono stati effettivamente e solitamente per questo tipo di interventi piuttosto ridotti. Essenziale è stato il contributo della diagnosi energetica confezionata e predisposta dal professor Pierpaolo Tartarini del Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Modena in Reggio Emilia, che effettivamente ha rappresentato un documento sulla base del quale poter istituire un tavolo di lavoro e quindi poter procedere insieme ai condomini sulla scelta delle soluzioni più vantaggiose. Desidero anche sottolineare che quella della riqualificazione energetica è solo uno dei diversi aspetti che ha interessato l'edificio in questi ultimi due anni, perché in realtà la riqualificazione passa anche per diverse strade e anche in questo caso devo dire che la collaborazione dei condomini che si sono sentiti parte viva e attiva di questa comunità è stata determinante. Questa operazione sicuramente porterà benefici per quanto riguarda la qualità di vita ma anche il valore degli immobili. Senza dubbio, ed è proprio questo che i condomini e i proprietari hanno percepito, cioè la necessità e l'opportunità di poter migliorare la qualità di vita all'interno degli alloggi e soprattutto di riqualificare, quindi facendo sì che acquistasse un maggior valore, il bene più prezioso che hanno, cioè la casa, forse questa di residenza o forse anche soltanto di villeggiatura. Questa è stata la chiave secondo me di svolta, la consapevolezza da parte dei proprietari che migliorare la qualità della vita equivale e va di pari passo con acquistare maggior valore del proprio immobile. Quindi il Grattacielo che è da sempre un simbolo della città di Rimini e da oggi è anche un simbolo di efficienza energetica, un simbolo green. Sì, effettivamente possiamo dire che da uno degli edifici altamente inquinanti della nostra regione il condominio Grattacielo oggi si può definire un edificio dal punto di vista ambientale piuttosto efficiente, decisamente efficiente. Parliamo di riqualificazione energetica dell'edificio più alto della città, ovvero il Grattacielo di Rimini insieme a Ingegner Puliti che è responsabile del progetto di realizzazione. Si diceva anche nel servizio che abbiamo visto prima della pubblicità, lo diceva anche l'Avvocato Bracaglia, tutto questo non sarebbe stato possibile senza una diagnosi energetica, si parte da lì. Sì, diagnosi energetica che è stata eseguita dal professor Tartarini dell'Università di Modena. Diagnosi energetica che ha individuato il cammino da percorrere, nel senso che tralasciando altre soluzioni, tipo anche magari più innovativo, ma però non praticabili, proprio per motivi strutturali, per motivi di spazi, eccetera, come l'eolico, geotermico, le biomasse, ha individuato come soluzione quella del gas metano, delle caldaie a condensazione e sulla base di questa diagnosi energetica, che è un lavoro preliminare, noi abbiamo poi svolto la progettazione esecutiva, costruttiva dell'opera. Anche voi avete dovuto sbrigarvi, tra virgolette, perché il tempo incombe, quindi in quanto tempo avete realizzato tutto il progetto? In meno di due mesi e le assicuro che è stato un lavoro non facile, certo, per quello che dicevo prima, perché intervenire soprattutto su un edificio esistente raddoppia le complicazioni che ci sono in casi di questo genere. Parlevamo prima appunto quanto si è centrale, il tema della riqualificazione energetica, voi tra l'altro, ho visto anche nel vostro curriculum, avete fatto dei lavori importanti di questo tipo, per esempio il padiglione Russia-Lexpo, ma poi ce ne sono molti altri scuole, quindi sempre questi interventi di riqualificazione energetica che oramai sono centrali, si dice sempre basta con la cementificazione, cerchiamo di riqualificare edifici esistenti, però in realtà sono pochi quelli che prendono questo seriamente, purtroppo diciamo. La cementificazione significa costruire qualcosa di nuovo, ma costruire qualcosa di nuovo poi significa ovviamente creare tanti problemi in una nazione poi come la nostra, dove gli spazi sono ridotti, dove ci sono certi tanti vincoli da rispettare, quindi ha colto benissimo il problema, importante è riqualificare e soprattutto importantissimo saper riqualificare e direi che questa opera di progettazione che noi abbiamo già impegnato notevolmente e ci ha dato molta soddisfazione sotto questo punto di vista anche. Questa è stata la vostra più grande sfida o c'è un altro progetto che magari vi è impegnato ancora di più? Dal punto di vista dell'impegno del tempo, è chiaro, abbiamo come lei ha citato prima nel nostro curriculum, abbiamo fatto già tanti lavori anche magari più impegnativi, forse sotto il profilo del tempo impiegato, sotto il profilo delle risorse, però sicuramente dal punto di vista dell'impegno nella riqualificazione soprattutto di edifici esistenti, questo forse è quello più impegnativo che io mi ricordi. E quello diceva prima anche l'avvocato Braccaglia, che questo tipo di intervento sicuramente aumenterà anche il valore di questo immobile e questo è di importanza nel momento che uno decida di comprare o vendere un immobile, questo è un aspetto magari della riqualificazione che viene spesso sottovalutato. Certo, perché chi ha un immobile che viene rivalutato dal punto di vista energetico, si trova senza ombra di dubbio ad averne una rivalutazione generale. Nel Grattacielo di Rimini le spese di manutenzione dei vecchi impianti, tanto per citarne una, erano altissime, adesso queste spese annuali si riducono enormemente. Ecco io siccome ho qualche appunto costi energetici, da 85 mila Euro scenderanno a poco più di 15 mila, sicuramente questi sono poi solo costi di manutenzione, poi c'è il risparmio energetico dovuto al fatto che gli impianti anche interni di ciascun condomino verranno poi, siccome l'energia sarà non più contabilizzata in maniera millesimale ma a consumo, a prelievo, perché questo ci chiede la normativa, questo è stato anche una delle linee guida del nostro progetto, quello di mettere per ogni appartamento la contabilizzazione dell'energia, quindi sia l'energia per il riscaldamento, sia anche, abbiamo approfittato di questo intervento per rifare anche tutte le linee di distribuzione dell'acqua sanitaria, sia anche il consumo dell'acqua tramite dei contalitri, verranno contabilizzati e verranno quindi pagati dai condomini a consumo. Il pagare una cosa a consumo e non più in ragione millesimale, anche dal punto di vista psicologico porta alle persone forse la convinzione di dover stare un po' più attenti, quindi già questa è una forma di risparmio. C'è poi il risparmio ovvio dovuto al fatto che prima tanta energia si disperdeva, si sprecava, si buttava via attraverso le perdite lungo le linee, che erano linee vecchie, linee ammalorate, invece adesso sono state sostituite da tubazioni nuove e perfettamente coibentate, c'è poi anche un po' di risparmio dovuto al fatto che sono state sostituite quelle vecchie caldaie che funzionavano con l'olio combustibile BTZ. Quest'olio combustibile BTZ, che cosa è una specie di gasolio? Esiste ancora in uso? Esiste ancora, sì, ci sono tanti impianti che sono ancora in uso, la normativa non permette più di realizzare impianti che lo utilizzino, però chi ce l'ha ovviamente fino a morte dell'impianto continuerà a utilizzarlo. Anche perché a Rimini sono molti appartamenti, le case, gli edifici in generale costruiti negli anni 70, insomma ricordiamo la maggior parte sono in effetti stati costruiti proprio in quegli anni di dopoguerra, perciò probabilmente ce ne sono molti tra i nostri telespettatori che ancora utilizzano un impianto di questo genere. Sì, il BTZ adesso forse è più raro, il gasolio ce ne sono moltissimi. Il gasolio, ecco comunque. Con il metano e con l'uso delle caldaie a condensazione abbiamo un risparmio anche energetico, un maggior rendimento diciamo di questi generatori proprio attraverso la condensazione, che significa recuperare quel calore che andrebbe via con i fumi di una caldaia per scaldare l'acqua che circola poi nell'impianto. Certo, che poi si traduce comunque anche in un risparmio ambientale nel senso meno inquinamento sicuramente per un edificio che magari emetteva una tonnellata e mezzo di monossido di carbonio con il nuovo impianto si riduce consideravolmente. Sì, adesso il monossido di carbonio è uno, ma ce ne sono altre ancora più importanti, l'anidride carbonica stessa che forse è un componente più nobile del monossido di carbonio, il monossido di carbonio è qualcosa di più oscuro, l'anidride carbonica parliamo di 200 mila e più chili hanno risparmiati, in meno quindi in atmosfera, gli ossidi di azoto, le polveri, l'anidride solforosa che praticamente scompare. Che lei diceva prima si quasi annulla, passiamo da 1500 a 100 kg hanno come emissione in atmosfera. E questo è molto importante, ecco. E questi interventi rientrano anche nelle famose agevolazioni previste per il risparmio energetico, giusto? Sì, la sostituzione di una centrale termica con una nuova centrale termica con caldaie a condensazione, dove ci sono i radiatori, la contestuale messa a punto dell'impianto di regolazione tramite applicazione sui radiatori di valore termostatiche consente di fruire della detrazione fiscale del 65% prevista dall'Enea. Saranno contenti i condomini, veramente una parola io la spenderei a favore di queste famiglie che hanno deciso di consentire alla realizzazione di questo progetto che comunque sarebbe dovuto essere eseguito perché le normative lo imponevano, ma comunque una consapevolezza ambientale, insomma noi dobbiamo sempre lodarla. E come dicevamo prima anche una rivalutazione del valore degli immobili sicuramente. Esatto, purtroppo il nostro tempo è terminato, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. E grazie anche a voi per l'attenzione, come sempre vi ricordo il nostro sito www.greenreports.tv e l'appuntamento come sempre lunedì prossimo.